Tanti invocavano sforamente di qua, sfondamente di là, si aspettavano che facessimo, diciamo così, un po' di follie. Mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative e davvero un pensiero a Bobo Maroni perché entra questa norma sua, qualche giornalista quando è uscita l'ha attribuito a me, io gli ho scritto, ho detto no, questa è una cosa tua, me dei Maroni, purtroppo non mi aveva risposto e il motivo abbiamo capito oggi. Grazie.